Vediamo dai Comunque è utile anche in prima fase Perché comunque toglie De buffa e può stannare Quindi è utile comunque Se arriviamo là sotto Guld Recuum si boostano già abbastanza Vediamo un po' Eh però I greatly raises death Fai conto che se c'è in turno genio fisico Non sarebbe malvagio per la fine Matteo grazie mille per la sub Da tre mesi con Twitch Prime Grazie mille Grazie mille per la sub Non è comunque malvagio Non è comunque malvagio la cosa Ci si può provare Da un lato è un pochino anche meglio di Barter che poverino Sì Tanca ok però Quella situazione Non lo so Preferirai forse avere un culto È un greatly raises death L'additional è tutto Peccato Peccato Però è iniziata bene come prima Come stavo dicendo prima È iniziata bene Qua comunque scopriamo Quanta death arriva Alla fine Vabbè Sappiate che quella run no item Che avete visto tanto tempo fa Di genio Sappiate esageratamente bene Che Quel genio ha fatto tutte le robe Che doveva fare Qua Qua stiamo sfigando Stiamo sfigando Mettiamolo alla prova Dai Quanta 143.000 C'è greatly raises death Dalla Dalla Passiva Dalla special Eh non è malvagio Non è affatto malvagio Chatt Ottiene quel 50 in più Se va in 12 Non fa schifo Quel 220k Ci arriva Anche un pochino di più Ci si può arrivare Sì ma devi far conto Che ora Lo metto a girare Perché là sotto Sono troppi colpi per guldo Guldo non deve stare in turno I turni devono essere Lui lui E lui l'str Ok Quelli sono i turni Devi far conto di quello In fondo a girare Guldo non fa schifo Sempre che non ci sia la spezia Ovvio quello Grazie broli Come lo buildi Se vuoi spreca Aia Eh beh si fa male Rip Crit comunque Questo era un bel problema Stare così con pochissima vita È un problema Grosso anche Teniamo lui lì E facciamogli Tancare più roba possibile Recuperiamo un po' di DHP così È l'unico modo Dobbiamo farlo E speriamo Allora è zon broli Va tutto a culo Da broli Non c'è proprio Skill Nel batterlo La skill non esiste È tutto culo Dove ti fa le special Quando ti fa le special Se ti fa le special Da tenere in conto Per questo schifo di evento Chatt ormai Va 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 come deve andare Però abbiamo già recuperato Abbastanza Abbiamo recuperato Abbastanza Siamo di nuovo Quasi Tre quarti di vita Per recuperare Abbiamo recuperato E questo è un bene Ok Proviamo no item Cosa vi devo dire Chat Proviamo no item E vediamo un po' Proviamo a vedere Se abbiamo culo Potrebbe essere La run dove broli Non mi fa nessun ad Ma dove non prendiamo Nessuna Sarebbe tanta roba Anche quello Ovvio Lo scopriamo subito State zitti In chat Per favore Non portate sfiga Minimamente Non è quella run Raga Non è quella run Credo che per oggi Finiamo qua Ecco qua La nostra morte Come sopravvivo ora Perché a genio Comunque non lo posso Trasformare Quindi come sopravvivo E se dopo la special Mi arriva subito Che posso fare Vivi? No non vivo Proprio lì il problema Non so se hai visto Quanti HP mi ha tolto Sono a 2006 Dove vivo Vediamo Beh però Però non mi oblitera È un fattore positivo Ne prendiamo così Quante sono 6 full 1 2 3 4 Sì andiamo così 6 full E poi prendiamo la STR È doppio buff Speriamo in bene No? Non ci fa la special Siamo andati in item Per ora Genio sarebbe la volta buona Che me ne fai due Di special Per favore È tutta la rank Te lo chiedo Tutta la rank Te lo chiedo Assolutamente Ora mi serve Quel Fammi ne tre Fammi ne tre Fammi ne tre Fammi ne tre Che forse Arriviamo la nuova item Time to shine baby Gritta 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 Assolutamente Gritta Peccato Come andrà a finire Ragazzi Ci sono dei colpi Lì Lo scopriremo Forse è meglio questo Ma No Boh Nella fine Non cambia No Devo bustare loro Lo scopriremo Nella prossima puntata Di DBZ Ok È la run È la run Ora È ora il momento Assolutamente Vediamo dove sono le special Se la special è lì Ok Mettiamo genio Volevo tanto usare genio fisico Peccato per quello Peccato per quello Però vabbè Andiamo così Facciamo wish Ci recuperiamo Ci recuperiamo Tutti gli HP Possibili Ragazzi Siamo full vita Let's go Questo è un dock a modo importante Vediamo Vediamo Per favore Fai quella crittata Sì Se la vinco Va su YouTube I pugni I pugni Lancia quei cazzo di pugni Vabbè Non prendiamo danno Quindi non è un problema Però che dubal Abbiamo Già Però abbiamo L'item a posto Vabbè 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 I pugni Ci ha fatto i pugni Ok Calma ora Vediamo Dove sono le special Possiamo evitare Di trasformare Junior Ci grazia Ci grazia Tanta roba Tanta roba Ci sta graziando Tanta roba No Fammi 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 Tanta roba Ci servono Molte orb Per dopo Abbiamo Guldo Abbiamo ancora L'item Ok Ok Sì Prossimo turno Full special Probabilissimo Tranquillo Testiamo anche Guldo A me va bene A me va bene Testare Guldo Voglio Sinceramente Vedere Se Fa roba E' la sagra E' la sagra dei pugni Che rottura Volevo recuperare Un bel po' Di hp Vabbè Dobbiamo usarlo Peccato La guld Ok E' tranquillissimo La guld E' tranquillissimo Chat Ora dobbiamo Scolare Ora dobbiamo Scolare Ah Cama Non Cretta Nemmeno Che Palle La perdiamo La perdiamo Per Ste Rob Che Tu Coglioni Abbiamo Ancora Una cura Con il Gigno Che si deve Trasformare Che Palle Che palle Veramente Oh però 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 Attenzione Buon danno Anche Buon danno Arrivano tutte dopo che non abbiamo più l'item Raga E' un problema Vabbè Ormai è andata Andrà come andrà Ma potevo anche Con tutta la sincertà Potevo mettere Gigno Fisico Primo Per Baffare Gigno A GL Potevo anche Farlo Potevo anche Farlo Sagra dei pugni Continua Vi dico solo questo L'abbiamo persa perché Gigno ha deciso di non fare mai un ad special L'abbiamo persa E dopo arriveranno le special Ci ha graziato troppo Arriveranno le special Sang Morti Che cazzata Che cazzata Veramente raga Che cazzata Incredibile Non lo sappiamo se c'è special Quindi Andiamo Lo metto dove ci sono più colpi Oh Fine Buono Guardi attiva Per fortuna Grazie per il crit Abbiamo bruttato 10 milioni raga E fai sti crit Porco E ha fatto uno Non farci la special Ora Dai 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 Non rompere il cazzo E non fare più la special Hai vinta però Che sofferenza Porca Eva Che sofferenza L'abbiamo spinto Talmente Tanto ad eff Ora che GG GG Absolutely Ne ho tanta voglia Giuro Ne ho tanta voglia Ne ho tanta voglia Io la trovo Non me ne frega niente La trovo Non me ne frega Un cazzo Vai guldo Distruttore di mondi Voglio anche sinceramente Vedere quanto piglia Pre special È un po' Un problema Per favore guldo È vinta A prescindere Era vinta Però voglio Voglio sinceramente Vedere quanto piglia Non l'abbiamo mai Messo a tankare È vinta comunque GG È vinta Ce l'abbiamo fatta Chat, ce l'abbiamo fatta 18 minuti Tanta sofferenza Buldo tank ha meglio di sell by the way